Dici, dici, che c'è? La macchina di girare Ma che c'ha la macchina di girare? Ma che c'hai te? Io manco ce l'ho C'è Massimo C'è Massimo Ma che stai a fare? Massimo! Sta a conflottare Sta al telefono Sta a ridere Guarda È romanista È romanista È la prova della sua colpevolezza Tutto ciò, guarda, guarda come viene Ma guarda, sta a sentire qualcosa al telefono Sì, certo È vero Rimani qua, perché la tua è già andata messa Ma non c'è la mancina 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 Ma che c'è? È filato È molta La mia tassa che c'è così Gio le mani qua Non c'è ma tu E' cascata Quella mia E' a nostra è massimo guarda che sto a fare sto a mannaccio sto a mannaccio è vero potrebbe essere abbelenato ma che è abbelenato Mario e la sua dieta prima bella sta a mannaccio come si dice Mario prendete e mangiatene tutti guarda i modelli non c'è un cavolo di linea qua che quattro i modelli devo sentire la registrazione ha paura ah beh allora adesso capisco chi è? che succede? che fanno? tutti insieme forza si mortaglio mazza tutti hanno solo luce a voce chi è? che fanno? anche lui fai foto vabbè io gli ho mangiato la torta tagliete d'acqua tagliete punta quante banalatone ma che c'è? ti è stato trovato? che è? ancora è arrivata la torta si la nonna la nonna la nonna è entrata la signorina vedi? scienza popolo prego ma chi è questo? il megafono non te sei sentito arcia la voce voce va parlando fuori si da questa parte in un'occasione di passare la prima di oggi che mi sede lo scopo via voce abbiamo deciso di conferire che gli attestati dai più utenti informi si sono fatti notare a vedere quale è bravo 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 non è una donna adesso tu posi la penna e te ne vai di là dai io sono solo io voglio avere scettuale vai di là alza qui Grazie.